Benvenuti a questo nuovo video, oggi vi parlerò di pneumatica con un software realizzato dalla Festo Didattic che si chiama FluidSim. Passiamo alla prima parte informativa teorica, dopodiché mi cimenterò con il software per farvi vedere alcune cosette. Allora cos'è FluidSim? FluidSim come vi dicevo è un prodotto della Festo ed è un programma per creare, progettare, simulare e anche studiare circuiti pneumatici, elettropneumatici, idraulici, oleodinamici quindi elettroidraulici, digitali ed elettronici. Quando si apre il programma e il software troviamo questa che è l'area e la finestra principale iniziale. Troviamo nella sua sinistra la biblioteca con tutti i componenti di FluidSim che sono le componenti sia pneumatici che elettrici necessarie a creare i nuovi schemi circuitali. In alto troviamo la barra dei menu come in tutti i programmi, presenta le funzioni necessarie alla simulazione e anche alla creazione degli schemi, quindi un menu completo. Subito sotto troviamo la barra degli strumenti dove invece ci sono le funzioni che utilizziamo più frequentemente così come accade sempre in tutti i programmi. Questo invece è il live, il disegno dove andremo a realizzare il nostro schema, il nostro circuito, il nostro progettino. Ma passiamo adesso alla dimostrazione pratica. Questo è il nostro FluidSim, all'inizio quando lo apriamo appare questa schermata iniziale. Per creare un nuovo progetto andiamo in alto a sinistra, New, appare un foglietto bianco. Per essere più ordinati nel posizionare gli oggetti andiamo sulla barra degli strumenti e clicchiamo su questo Display Grid, cioè la griglia. Vogliamo iniziare creando un programma, un comando pneumatico semi-automatico, quindi ci servirà un cilindro. In questo caso voglio prendere un cilindro a doppio effetto. Eccolo qua, cilindro a doppio effetto. Posso anche aumentare la visibilità con lo zoom, cilindro a doppio effetto. Sendo un cilindro a doppio effetto lo devo comandare con una valvola di distribuzione di stabile, ovviamente 5-2, che vado a cercare nel menu. Eccolo qua, la nostra valvola 5-2, dove ci sono 5 vie e 2 posizioni. Abbiamo la prima posizione, che è quella di default, quella a destra, e quella di sinistra, invece quando la valvola è azionata. Le 5 vie sono 1, 2, 3, 4, 5, dove c'è l'ingresso per la pressione. Andiamo a prendere quindi il nostro collegamento alla pressione. Il 3 e il 5 sono gli scarichi, mentre il 2 lo colleghiamo con la camera del cilindro e il 4 con la camera anteriore. Come funziona questa valvola? La pressione inizialmente esce dalla connessione 2, quindi spinge il pistone indietro. Se voglio che il pistone avanzi, bisogna che la pressione che esca dal 2 deve uscire dal foro, dal 4. Per farlo bisogna che ci sia un pilotaggio, in questo caso quello di sinistra, che fa scattare, commutare la valvola meccanicamente, e quindi non assume più questa posizione, ma la nuova configurazione è quella di sinistra, dove il 4 diventa l'alimentazione, mentre il 5 è lo scarico relativo. Quindi andiamo adesso a creare quelli che saranno i miei segnali di pilotaggio per spostarmi la valvola, per commutare la valvola, e quindi azionare il mio cilindro in modo che vada avanti e indietro in maniera semi-automatica, cioè con un solo ciclo, una sola volta. Bisognerebbe ripremere sempre il pulsante per avere un azionamento. Posso farlo ad esempio con due sensori di fine corsa. Prendo questo qui, che è il mio distanziatore per i fine corsa, e vado a configurarlo. Per configurarlo gli clicco sopra e devo mettere delle etichette. Fine corsa a 0, che è quello più vicino, è quello che è presente quando il cilindro torna indietro, e a 1 che mi segnala che il cilindro è tutto esterno. Quindi, quando è dentro, è posizione 0, quando è fuori, ha una posizione 100 mm, perché vedete qua, da 0 a 100, da 0 a 100. Ok? Ecco che appaiono le mie due etichette. I nostri invece valvole di comando, le andiamo a prendere, sono delle valvole 3-2, operatore meccanico, me ne serve uno che ha, che sia un fine corsa, un fine corsa, ecco, uso questa, poi faccio, la modifichiamo. Questa è una valvola 3-2 normalmente chiusa, perché vedete che la pressione, sempre sull'1, quando la valvola è in pressione, non c'è nessuna fuori uscita dal 2, ma l'aria va direttamente allo scarico. Il 3 invece è il nostro scarico. Qui abbiamo il nostro fine corsa, che possiamo indicare con A0, fine corsa, mettiamo il fine corsa A0, il fine corsa A0, quando è attivato, quando è azionato, porta, dà pressione al pilotaggio, commuta la valvola, il cilindro va avanti. da questa parte, faccio un copia e incolla, ti clicco, e questo è il mio fine corsa A1. Stacco un attimo la mia pressione da questa parte, e la porto qui. Per quale motivo l'ho tolta? perché in questo modo A0 A1 non ci sarebbe nemmeno bisogno di nessun pulsante, perché appena la valvola è in pressione, partirebbe senza nessun segnale di comando. Quindi devo introdurre un pulsante di inizio ciclo, un pulsante di start, che è sempre una valvola una valvola di comando 3.2, a pulsante, ecco, posso usare questa, la pressione al mio fine corsa viene data dal mio pulsante in pressione, quando il pulsante è in pressione alimenterà la valvola fine corsa, il fine corsa alimenterà la A5.2 e il pistone uscirà. Invece di prendere un altro blocchettino di pressione, posso usare lo stesso e collegarlo in questo modo. Il nostro circuitino è completato, adesso lo mandiamo in simulazione cliccando sullo start. Vedete che ci fa vedere il percorso e quale sono le linee impressione. E' impressione il fine corsa 1.2, ma siccome a 1 non è azionato, la configurazione della nostra valvola è quella di destra e quindi è in scarico. Se vado ad azionare sul mio pulsantino, vedete che esce e poi ritorna. se vogliamo che la simulazione abbia una velocità di esecuzione leggermente più bassa, andiamo sul menu option simulation si apre questa finestra dove tra i vari comandi troviamo slow motion factor dove noi possiamo diminuire la velocità di esecuzione. Adesso sarebbe la massima 1.1 se io metto 1.5 è dell'80% scusate quindi adesso vado di nuovo a premere il mio start vedete si vede molto meglio cosa succede. Quindi questo è il nostro circuitino semi-automatico. Se invece volessimo realizzare un circuito automatico o con la scelta automatico oppure semi-automatico vado un attimo a eliminare questo collegamento e vado ad usare sposto un attimo i componenti perché mi serve per la nostra operazione vado ad usare un interruttore vedete il simboletto dell'interruttore che dimostra che è una valvola 3-2 ma non comandata da un pulsante ma comandata da un interruttore adesso la pressione la prendo sempre dallo stesso punto pressione e ovviamente devo collegare il mio start ciclo singolo e il mio start automatico nella stessa posizione sarebbe impossibile se non dovessi avere una valvola logica OR la nostra shuttle valvola shuttle con un'uscita e i miei reingressi a questo punto il programma lo schemino è realizzato vado a lanciarlo se premo vedete che ha un solo ciclo se premo se premo quest'altro che è un ciclo automatico possiamo notare che il ciclo va avanti e indietro continuamente fino a quando non ripremiamo sull'interruttore per eliminare i la movimentazione bene questo era un semplice esempio di quello che si può iniziare a fare con il software fluid sim è molto usato a livello didattico ma oltre al livello didattico può essere usato anche per fare dei progettini studiare la pneumatica e molto altro vi ringrazio per la vostra visione se vi è piaciuto mettete un like vi raccomando e se volete iscrivetevi al mio canale dove troverete molto 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 altro non solo sulla pneumatica ma sulla programmazione del PLC per quanto riguarda Arduino sensori e programmazione del LabVIEW della National Instruments grazie